Ciao da Absim, back to business, prima partita del 2020, prima partita del decennio, Juventus-Cagliari lunedì 6 gennaio 2020, ore 15 all'Allianz Stadium, Sarri che torna al 4-3-1-2, Ramsey dietro Dybala e Higuain, c'è Rabiu a destra al centrocampo con Pjanic e Matuidi, De Miral preferito a De Ligt in difesa a Quadrado e Alexandro sugli esterni con Bonucci e davanti naturalmente a Scesni, che partita è stata? Io la devo ancora vivere, come vedete dall'orario qui sopra, speriamo sia una vittoria e sempre forza Juve! Quadrado scaricali indietro a tu per tu con il portiere, ma poi non tiriamo più, ma Quadrado doveva tirare qui! Ah vabbè fuorigioco, ero un 1-2 di Quadrado con Ronaldo che poi ha provato a servirlo di nuovo ma ha intervenuto bene nella difesa del Cagliari, io però penso che qui Quadrado avrebbe tutto tirato, adesso al di là del fuorigioco ci interessa poco, dopodiché probabilmente c'è stato fallo su Ramsey, non ravvisato dall'arbitro. Ramsey dentro, al limite dell'aria è messo a terra Dybala, ma come non c'è nulla? Ma questo è fallo! Dybala è ancora a terra da solo nell'area di rigore del Cagliari, dopo fermata la ripartenza dei Rosso-Blu, Quadrado deve mettere fuori, cioè è chiaro che ha preso una bella botta di Dybala, ma si è visto, ma si è visto a distanza di decine di metri, non so come abbia fatto l'arbitro a non dare fallo, era lì vicino e adesso ci sinceriamo delle condizioni di... Mamma mia, ma che falciata è! Ma che falciata è! Ma che falciata è! Qui dobbiamo anche vedere se è rigore! Qui dobbiamo anche vedere se è sulla linea o è fuori! Dai! Ma non è una questione dell'errore arbitrale, ma se io intervengo a farti male al limite dell'area, cioè, cosa esistono a fare i falli? Esistono per questo! Alexandro mette dentro un cross affilato, sulla seconda palla il tiro in porta di Ramsey, che è il primo della partita a questo ventiquattresimo, ma blocca Olsen. Ramsey la sponda per Matutti che è dentro l'area, la domestica, l'ancora, mette ancora dentro, salta in cielo Ronaldo, scende troppo presto, Di Bala, di controbalzo, lo spara fuori dallo stadion, praticamente. Parte Di Bala, è un cross sul secondo palla, Ronaldo para! Olsen li mette in calcio d'angolo, era veramente un colpo forte di testa di Ronaldo, ma centrale, ma centrale. Tutto questo non è calcio d'angolo, è rimessa da lì perché era fuori gioco, credo. Le due occasioni migliori che abbiamo avuto, in entrambi i casi, era fuori gioco, fin qui. Di Bala, Gran Cross sul secondo palo! Pellegrini anticipa di testa sull'intervento possibile di Ronaldo e sarà calcio d'angolo. Colpo di testa! Di Demirol e traversa su corner di Pjanic. Pericolosissimo Di Demirol qui. Che stacco! Traversa secca! Bella giocata di Pjanic! Non ci arriva Ramsey! C'è stata una deviazione, blocca Olsen. Contraattacco del Cagliari, può andare al tiro, svirgolato, male, da Nainggolan, per fortuna. Però questa è la prima buona ripartenza del Cagliari in cui non siamo riusciti ad intercettare. E c'era stato anche un brutto fallo di Pjanic, che è stato ammonito, primo giallo della partita. Bellissimo questa cosa! Cioè loro si difendono, anzi Rabiu aveva fatto fallo. Loro si difendono, noi attacchiamo, mettiamo pressione, fanno anche falli. Poi niente, alla prima ripartenza, fallo nostro, giallo per noi. Per fortuna non hanno neanche tirato in porta. A Juve ha fatto tipo 7-8 passaggi di prima di fida tra Quadrato Pjanic e pochi altri. Però poi sulla verticalizzazione successiva, all'ultimo del primo tempo, la palla va sul fondo. Finisce il primo tempo sullo 0-0, con una Juve sempre in controllo, ma poco efficace, poco efficace. Questa non è una novità in attacco. Pochi pericoli, una traversa e poco altro. Speriamo di fare meglio nel secondo tempo, di sbloccarlo, perché stiamo assolutamente meritando di vincere. E sempre forza Juve. Ronaldo, si avventa sul pallone, solo davanti a Osset, lo dribbla, ed è gol! Gol! 1-0! Il primo gol del 2020! Il primo gol del decennio! Cristiano! Ronaldo! Uhu! 1-0, meritatissimo, meritatissimo della Juventus. Qui un pallone sbagliato in difesa, sembra fosse Clavan in orizzontale al compagno. C'è arrivato Ronaldo, anticipo secco, pulitissimo. Dribble il portiere, la mette dentro, infonda la rete con il destro. Grande iniziativa di Alexandro che va sul fondo. Dybala, il tiro! Smanaccia Olsen sulla linea! Mamma mia, incredibile! Questo poteva essere un grandissimo subito raddoppio. Dybala è stato bravissimo a tirare in porta, su grande iniziativa a sinistra di Alexandro. Allora, da questa posizione mi aspetto. Un cross di Dybala. Anche perché c'è lui sul pallone. No, adesso si sposta. Parte Ronaldo! Cos'era? Un passaggio alla barriera? Ma che schema era, Cree? Aspetta, ripetilo. Dybala nello spazio fa esattamente tutto quello che vuole. Va in percussione troppo largo per Ramsey. Grand dribbling di Ronaldo. Il tiro ribattuto. Subito pronti sulla seconda palla. Sempre! Ma il cross di Matudy è sbagliato. Colpo di testa e traversa del Cagliari. Credo ci sia stata la deviazione di Scesni. Però no. Cioè, qui abbiamo anche ripiegato bene sulla ripartenza, pur non intervenendo. Ma sul cross di Nainggolan. Dobbiamo essere più pronti. Quadrato si fa scavalcare troppo facilmente da Simeone. Troppo! Nel duello aereo. Non tocca a Scesni. Quindi non sarà calcio d'angolo. Ma traversa come quella di De Miral. C'è Dybala! Salta l'uomo fermato. Sarà calcio di punizione. C'era doppio fallo. Prima su Quadrato. Lasci correre. Poi c'è su Dybala. Calcio di punizione. Lato destro. Vicino alla lunetta dell'aria. E qui c'è un signore con la maglia numero 10. che si chiama Paolo Dybala. Che può pennellare. Attenzione. Parte Dybala. Pennella! Olsen l'ha parata. La fallo laterale. Non l'ha alzata bene Dybala. Non l'ha alzata benissimo. Anzi, era abbastanza centrale. Oltre che... Centrale anche come ampiezza. Oltre come altezza. È riuscito, tra l'altro, leggerissima deviazione di Nainggolan. Ma comunque non ha neanche superato di molto la barriera. Poteva tirare meglio. Dybala fa tutto da solo dentro. L'aria calcio di rigore! Calcio di rigore conquistato da Dybala! Che fa quello che vuole nello spazio stasera. Oggi pomeriggio. In mezzo a tre. Fallonetto. Di Rog. Indiscutibile. Indiscutibile questo calcio di rigore. Non si lascia neanche cadere Dybala. Perché proprio c'è il contatto. E poi... Cade. Lui stava correndo col pallone dentro l'aria. Per provare anche a tirare a giro col mancino. E adesso invece sarà... Cristiano Ronaldo sul dischetto. Per il raddoppio possibile. E' una partita fin qui dominata. Parte Ronaldo. Goal! 2-0! Grande Cristiano. Freddissimo. Spiazza Olsen. Ed è 2-0. Doppietta di Ronaldo. E ripeto ancora che questo vantaggio, doppio vantaggio, è meritatissimo. Manca un quarto di partita a metà secondo tempo. Voglio il 3-0. Ma soprattutto voglio che continuiamo a dominare così. Grandissimo. Recupro la palla di Dybala. Che prova a tirare dalla lunghissima distanza. Per sorprendere Olsen. Ma... Deve rifare la convergenza perché... Perché la palla va quasi in falo laterale. Però Paolino è anche per accelerare il cambio perché entra Higuain al suo posto. Dybala applauditissimo perché ha fatto una partita straordinaria soprattutto nel secondo tempo. E adesso vediamo se Pipa ha fame di gol. Il tiro del Cagliari ci mette una mano scelta per metterla in calcio d'angolo. Ma secondo me poteva esserci fuori gioco. Perché è stato un tiro deviato dallo stesso giocatore del Cagliari. Bellissima iniziativa. Ronaldo Pjanic con Matuidi che fa la sponda. Palla vetrata per Rams e scivola al momento del tiro. Poteva assolutamente fare meglio. Blocca Olsen. Rabiot avrebbe potuto assolutamente cambiare gioco rapidamente su questa ripartenza da corner del Cagliari. Invece ha rallentato troppo. Abbiamo perso palla. E su queste cose devi assolutamente migliorare. Esce Ramsey ed entra Douglas Costa. Dai Dagi in questi dieci minuti più recupero cerca di fare qualcosa di strepitoso. Come sai fare? Ramsey che non mi è piaciuto tantissimo. Devo dire. Gli possiamo concedere una partita non ottimale, non brillante. Però da un punto di vista proprio delle letture dell'intesa con Ronaldo poteva far meglio. Iguaini, Iguaini, Iguaini. Il tiro da gol di Gonzalo. All'improvviso 3-0. All'improvviso il 3-0 di Gonzalo. Con leggera deviazione. Da solo dentro l'area. Se la sposta sul destro. Tiro secco. E Olsen non la prende. Un fulmine così. Una fiammata. Finora non aveva neanche toccato palla Gonzalo. Ma è questa la Juve anche. Tripletta di Ronaldo! 4-0! Ma cos'è successo oggi? Cosa sta succedendo? Non si capisce più niente. Sta andando tutto bene. 4-0 ragazzi. Lo ammetto. Me lo sono perso. Stavo scrivendo su Twitter. Ho visto solo Ronaldo che tirava all'improvviso. Vediamo il replay. Da dove è partita questa palla. Da Douglas Costa che taglia il campo. Serve di destra. Ronaldo sul sinistro. Olsen in uscita. Tutta slabbrata la difesa del Cagliari qui. Non si poteva fare nulla. 4-0 al Cagliari. 4-0 al Cagliari. Non è finita. Siamo all'82esimo, signori. Intanto è entrato Emre Can al posto di Matuidi per questi ultimi scarsi 10 minuti. Esauriti i cambi. Esaurito il Cagliari già da un po'. Vediamo se abbiamo ancora energie per fare qualcosa di straordinario in questa partita. Higuain per Douglas Costa. Per Higuain per Douglas Costa. Velo. Ronaldo non la prende. Esce la difesa del Cagliari. Attenzione, Professor Higuain. Murato. Il tiro all'ultimo secondo era abbattuto. Olsen stava mandando un replay. Ma all'improvviso la Juve attacca. Cosa succede oggi? Davvero. Tiro di Nainggolan. Rimbalza davanti a Shesdy. Mai debole. Siamo al novantesimo. Ed è 4-0. Douglas Costa in campo aperto. Ne salta uno. Rincorso da un altro. Lo evita. C'è là sul sinistro. Lunetta dell'aria. Entra dentro. Spinto. Si reclama calcio di rigore. Ma l'arbitro dice che non c'è nulla. Anche a mio avviso, secondo me, non c'è niente di eclatante. Rivedremo. Tanto non ha servito Ronaldo Douglas. Traversa di Joe Pedro. In girata dentro l'aria. L'ultimo minuto. Eh, però dai. A questo punto ci tengo al clean sheet, onestamente. Non è essenziale. Ma a questo punto sì. Qui Quadrado ha tenuto anche bene. Ma non benissimo. Poi rigore su Douglas Costa. Non credo onestamente che andasse fischiato, eh. Emre salta l'uomo. Prova a mettere dentro il cross deviato. Sarà calcio d'angolo. Ma? No! Fischia subito. Fine delle ostilità che non ci sono state. Una sola porta. Una sola direzione. Una sola squadra. Con tutto il rispetto di un Cagliari che è un'ottima squadra e che ha tenuto molto bene in difesa. Ma siamo stati straribandi. Questa era la mia live reaction di Juventus-Cagliari 4-0. Ditemi la vostra nei commenti. Like al video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo molto presto. E sempre forza Juve!